Ebbene cari amici, bentrovati a tutti voi da Manuel, benvenuti al Bar del Calcio, partiamo con la nostra intro. Cara community del Bar del Calcio, ben trovata, ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere. Se trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde, tutto in descrizione a questo video, avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Ti ricordo inoltre il nostro sito, ve lo dico qui punto com, all'interno del quale come potete vedere una volta entrati nel sito, cliccate sul Bar del Calcio, cliccate di nuovo sul Bar del Calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Vi ricordo come di consueto ragazzi che in descrizione a questo video trovate tutte le informazioni riguardanti appunto il Bar del Calcio. Questo video l'ho registrato ieri perché nel momento in cui state vedendo questo video noi siamo in viaggio, dovremmo stare a circa due ore, due ore e mezza da Auronzo Dicatore orientativamente, però vi avevo promesso di presentarvi nel mio piccolo Auronzo Dicatore e permettetemi di ringraziare mia moglie che si è prodigata nel raccogliere informazioni e curiosità riguardanti appunto la cittadina che ci ospiterà per una settimana circa e che ospiterà per nove giorni la Lazio nel ritiro di Auronzo Dicatore. Ci tengo subito a dire una cosa, da oggi, eccezione fatta per questo video, cambia drasticamente la programmazione del canale YouTube. Ragazzi, attenzione, non ci saranno più i classici video programmati perché saremo live da un momento a un altro tutte le volte che ce ne sarà l'opportunità o ce ne sarà il bisogno. Quindi è importante che voi attiviate le notifiche, ok? Creerò una nuova playlist che già trovate nel canale YouTube, la chiamerò proprio speciale Auronzo Dicatore, o anzi la chiamo proprio Auronzo Dicatore dove là dentro troverete tutte le live catalogate in ordine cronologico in modo che non vi perdiate nulla. Questo è fondamentale ed è molto 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 importante per voi. Abbiamo in nostro seguito anche il numero di telefono del canale, vediamo quando lo terremo acceso, vediamo un attimino, quindi mandate messaggi, mandate audio e quant'altro con vostre curiosità. Ragazzi, vi invito solo una cosa, messaggi brevi, non mandate messaggi di 4-5 minuti perché probabilmente non avremo tempo di ascoltarli e sarò costretto a fare una cernita. Massimo un minuto, ve lo chiedo per favore. Ma adesso ci tengo nel mio piccolo a farvi capire dove già da oggi manderemo appunto in diretta i video di Auronzo Dicatore. Lo sapete qual è il mio scopo? Quello di portarvi simbolicamente con me e con Fabrizietto al nostro fianco al seguito appunto e quindi condivideremo con voi ogni singola cosa di Auronzo Dicatore. Ragazzi, sarà una sorta di grande fratello in stile Lazio, tanto per farvi capire. Ma cominciamo immediatamente con andare nel dettaglio descrittivo di Auronzo Dicatore. Cominciamo con il dire che Auronzo Dicatore si trova in Veneto, nello specifico è provincia di Belluno e intorno alla storia di Auronzo Dicatore c'è anche un qualche cosa, un alone di fascino, qualche cosa di affascinante che andrò appunto a spiegarvi in questo video. Innanzitutto il nome Auronzo Dicatore, da dove deriva? Stando a delle ricerche, il nome di Auronzo potrebbe essere antenato del nome dei vecchi abitanti, degli abitanti di una volta appunto del Cadore. Gli eborunti secondo alcuni, secondo altri invece gli abborunti. Comunque è questo il nome che avevano tanti milioni di anni fa gli abitanti di questa piccola cittadina. C'è poi un'altra versione che sembra quella essere più gettonata e cioè che il nome di Auronzo possa derivare dal latino aurum che significa oro. Questo perché? Perché nelle vicinanze di Auronzo c'è o c'era, questo vi dico la verità, non lo so nel dettaglio, una miniera di argento. Anche Auronzo è stata tra virgolette preda degli antichi romani che comunque venivano qui per trovare un po' di tranquillità, un po' di ristoro, soprattutto nel periodo estimo. Vi ricordo che Auronzo si trova nella parte meridionale delle tre cime di Lavaredo. Molti di voi potrebbero pensare che la Lazio è andata ad Auronzo di Cadore in montagna, in altura. Beh, volete sapere la verità? Non è proprio così ragazzi, perché Auronzo di Cadore ha un'altitudine di circa 866 metri. Avete capito bene? Non arriva neanche a mille metri di altitudine, quindi è montagna perché supera abbondantemente i 600 metri di altezza, però diciamo che è proprio il primo step, diciamo così, dell'essere una montagna. Non è che stiamo a mille, mille e cinque, insomma, tanto per intenderci. Gli abitanti di Auronzo di Cadore sono circa 3.315. Questo è un numero in forte ribasso che purtroppo segue il trend di tutti i paesi italiani che purtroppo tendenzialmente stanno perdendo in termini di popolazione, in termini numerici. L'estensione di Auronzo di Cadore è di circa 220 chilometri quadrati, tanto per farvi capire quanto, in termini proprio di mappatura sulla cartina, quanto va ad occupare. In questo modo vi fate anche una certa idea di quanto può essere grande Auronzo di Cadore. Andiamo adesso nello specifico di quello che offre Auronzo di Cadore. Chi va ad Auronzo di Cadore? Cosa può apprezzare di bello? Per primis, ovviamente, le tre cime di Lavareto, perché, ragazzi, da Auronzo, proprio dal campo, dallo zan de Giacomo di Auronzo, si vedono proprio le tre cime di Lavareto ed è uno spettacolo meraviglioso, soprattutto quando col tramonto del sole del pomeriggio le Dolomiti diventano rosa. Ragazzi, posso rassicurarvi che è uno spettacolo clamoroso e mi auguro nel corso di questi giorni di permanenza nel ritiro della Lazio di farvi gustare dal vivo questo incredibile spettacolo. Come non citare il lago di Misurina, lago meraviglioso, circondato dalle montagne, offre un paesaggio, credetemi, da lasciare a bocca aperta, come tutti un po' i laghi. Tra l'altro il lago di Misurina, se non ricordo male, è il lago più grande appunto nella zona di Auronzo di Cadore. Una cosa, un posto meraviglioso, credetemi, ma soprattutto è molto suggestivo, perché davvero offre uno spettacolo clamoroso. Se poi ci si vuole andare un attimino a rilassare, impossibile non fare una capatina per fare delle passeggiate, ricco di sentieri e quant'altro. Ha un altro lago, il lago di Santa Caterina, ragazzi, che per forza di cose è impossibile non andare a visitare. Se poi si vuole andare a fare, ad addentrarsi ancora di più, e nello specifico, nella storia, nella cultura di Auronzo di Cadore, allora ragazzi non posso che consigliarvi il Museo Etnografico Regole d'Ampezzo, dove praticamente raccoglie tantissime informazioni e vi fa addentrare in maniera più partecipativa anche in quelle che sono le tradizioni, la cultura del posto. Merita anche di essere evidenziata assolutamente proprio nel centro di Auronzo di Cadore, la chiesa di San Giuseppe, che per la sua architettura e per i rilievi contenuti al suo interno, merita davvero una visitina. Perché amante poi delle escursioni, ragazzi, Auronzo di Cadore è proprio la raccolta di infiniti, di migliaia di sentieri, di ogni genere, divisi anche in vari livelli di percorribilità, quelli più impegnativi per i più esperti, quelli easy per chi si trova all'inizio di queste cose, del trekking. Insomma, ragazzi, a livello di sentieri, Auronzo di Cadore lascia senza parole e ne offre a livello sia di visuale, sia di difficoltà di percorribilità, ne offre una marea, un ventaglio di soluzioni incredibili. Pensate che a lungo Auronzo sono dislocate una marea di mappe che appunto permettono all'escursionista di turno, in base alla sua esperienza, di decidere in quale addentrarsi. Davvero una cosa molto affascinante. Come non parlare di quella che secondo me è l'attrazione regina d'estate ad Auronzo di Cadore? Sto parlando del fanbob, ragazzi. Fanbob che nasce proprio dove l'inverno invece c'è una pista di sci. L'estate diventa la pista del fanbob. Che cos'è il fanbob? È una sorta di macchinetta piccola pilotata con una leva avanti e indietro per accelerare e per frenare che viaggia su monorotaglia, è agganciata su monorotaglia che raggiunge una velocità massima di circa 50 km orari. Ma voi prendete proprio le curve a gomito, a manetta, è incredibile. Deve volte si mette in obliquo, delle volte si mette tutta in verticale a scendere perché la si prende, si sale con la funivia fino a su alla vetta della montagna e si riprende in discesa per un percorso di circa 3 km, 3,5 km. Vi dico la verità, è stato un brivido doppio per me. Per me che sono un po' fifone, prendere la funicolare è stata... La funicolare si chiama? Prendere la funivia, salire, ritrovarmi sospeso nel vuoto. Credetemi ragazzi, ho dei video miei che fanno ridere. Io che urlo disperato che voglio scendere, lasciamo perdere. Poi arrivi su, c'è un ristoro meraviglioso tra l'altro. Dopodiché sali su questo fanbob che è una macchinettina piccolina, gialla, spesso gialla, e tu te butti in picchiata nel vuoto per 3 km e una serie di paraboliche, di curve a zig zag fino a quando ritorni giù alla base della montagna. È un'esperienza bella, 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 che per chi non l'ha mai fatta la consiglio. Perché ragazzi avete una prospettiva mentre vi buttate nel vuoto, clamorosa. Avete una prospettiva, pare che state dentro a una cartina geografica. Una cosa meravigliosa, credetemi, questo è consigliatissimo. Adesso andiamo alla cosa che un po' più, noi italiani come tradizione, siamo sempre molto sensibili, no? Andiamo un pochino ad affrontare il discorso della cucina. Quali sono i piatti tipici di Auronzo Ticatore? Beh, qui abbiamo un bel ventaglio, eh ragazzi? E vado subito ad elencarveli. Cominciamo con i canederli, che non sono altro che dei gnocchi di pane che vengono cotti in varie cose. C'è la versione vegetale, invece c'è la versione quella più ghiotta, arricchita con lo speck. Davvero gustosissimi, ragazzi. Anche se ad Auronzo Ticatore c'è l'usanza di condirli sempre con tanto burro. Questo, non so se siate proprio amanti di questa cosa, però credetemi, sono fabolosi. Sì, ovviamente, stiamo in montagna. Auronzo Ticatore, che fai? Non puoi avere tra i piatti tipici di Auronzo? La polenta è un classico, anche qui fatta in una marea di varianti, così come detto per i canederli, in variante vegetale, con carne, con formaggi, con prosciutti. Ragazzi, una cosa tremenda. Aspetta, col sugo di cervo, col sugo di capriolo. Cioè, credetemi, non è possibile non mangiare la polenta. Sti cavoli che è estate, ma la polenta ad Auronzo la devi assaggiare per forza. Andiamo sui formaggi. Perché amante dei formaggi ad Auronzo vi scatenate, ragazzi. Vi scatenate. Il formaggio re ad Auronzo Ticatore è il cosiddetto bastardo del grappa. Sì, avete capito proprio bene, si chiama così, bastardo del grappa. C'è poi il morlacco del grappa, il busche, il cesio e il tosella. Questo proprio è qualcosa di clamoroso. Poi arricchiti durante la degustazione da produzioni locali, soprattutto di tante varianti di miele. Un'accoppiata, ragazzi, da leccarsi i baffi. D'inverno ci si scatena con le zuppe, con l'orzo, zuppe d'orzo che sono assolutamente ultragettonate. Il risotto coi funghi, che va bene per tutte le stagioni. Questo non è che se lo regalano solo l'inverno, sempre. È un evergreen. Il risotto coi funghi ci sta sempre. E poi, per chi è proprio amante della carne, dal gusto particolare, bisogna avere anche un pochino di coraggio, bisogna dire la verità. Ragazzi, non è possibile non provare la lingua di vitello. Non vi immaginate la lingua del vitello. Fidatevi, è una cosa favolosa. Nello specifico viene preparata il vino rosso, dopo essere stata marinata per lungo tempo, ad esempio con cipolla, appunto col vino rosso, col pepe e con i chiodi di carofano. Buonissima. Poi c'è un richiamo all'antica tradizione della cucina di Auronzo. E allora vi cito anche le cosiddette codinze. Che cosa sono? Le codinze sono praticamente delle fette di mele, non tagliate a spicchi, come le facciamo noi, ma tonde, ok? Sono fette rotonde di mele, che vengono lasciate essiccare, eppure qui, con un condimento di miele, diventano, a dir poco, golosissime. Insomma, Auronzo di Cadore offre di tutto, dai paesaggi clamorosi, mozzafiato, e vi ripeto, sicuramente ve ne regaleremo tanti in queste nostre giornate di Auronzo, alla cucina, ai sentieri da percorrere. In realtà c'è anche una dica che è molto affascinante, molto bella da vedere, proprio a poche centinaia di metri dal campo di allenamento dello Zande Giacomo, dove si allena la Lazio. Insomma, questo sarà Auronzo di Cadore, quello che ci ospiterà in questi giorni. Spero abbiate gradito questo video. Ragazzi miei, vi mando un abbraccio, ancora una volta, vi ribadisco, per la centesima volta, non andrà la programmazione standard del canale con i quattro video giornalieri programmati, bensì live da un momento in altro. Quindi è fondamentale che voi attiviate le notifiche. Il telefono ce l'abbiamo a nostro seguito, non sarà sempre acceso, ma lo sapete ormai come funziona. Mandate audio di massimo a un minuto, ve lo chiedo per favore. Audio di un minuto, dopodiché poi noi in qualche modo vi rispondiamo. E creerò, o meglio, già è creata nel canale una playlist chiamata Auronzo di Cadore. Tutti i video che faremo, le live che gireremo nel corso di questa settimana ad Auronzo di Cadore, le troverete là dentro. Questo vi darà modo di accedere ai nostri contenuti nel caso in cui non abbiate fatto la vostra partecipazione in diretta. Adesso mi fermo qui. orientativamente dovrei arrivare ad Auronzo di Cadore tra un'oretta e mezzo, massimo due, orientativamente, comincia anche per noi il ritiro di Auronzo di Cadore. Appuntamento alla prima live dallo campo Zande Giacomo. Un saluto da Manuel. Un abbraccio forte a tutti voi. Un abbraccio forte a tutti voi.